Salute a tutti i nostri telespettatori, bentornati a una nuova puntata della piazza del lavoro, come sapete è dedicata al mondo del lavoro, in studio esperti e imprenditori che ci aiutano ad analizzare l'evoluzione del mondo del lavoro. Questa sera la puntata è dedicata al social recruiting e al digital reputation, ovvero la ricerca di un lavoro oggi passa sempre più spesso dal web, curriculum, referenze, competenze, hanno una vetrina digitale importante ma va curata e utilizzata in modo giusto per ottenere più velocemente le migliori opportunità lavorative. Questa sera dunque vedremo come utilizzare il social network per trovare lavoro senza dimenticare la digital reputation, ovvero l'immagine che ognuno di noi si costruisce sulla rete. Condivisioni, discussioni, blog, fotografie, social rappresentano la nostra immagine digitale, sempre online e la rete non scorda nulla. Molti pubblicano magari senza pensare che un'immagine sbagliata può compromettere un incarico di lavoro, ma è proprio così? Una recente ricerca condotta da Decco su un campione di 17.000 candidati e 1.500 responsabili delle risorse umane in tutto il mondo ci dice che il 50% di chi cerca lavoro utilizza attivamente la rete internet e i social network. Vi presento subito i nostri ospiti a cominciare da Beatrice Podda, digital marketing e communication manager del gruppo Decco. Buonasera. Benvenuta, grazie, esperta che di fatto ha lanciato tutti i canali social del gruppo Decco, è così? Corretto. Estremamente competente sul settore. Poi Tudor Vlad Lasariu, cofondatore e project manager di Easy It, una start-up che migliora i modelli di business delle imprese attraverso marketing integrato, digitalizzazione, ricerca e sviluppo con il Politecnico di Milano, la sede di Cremona. Buonasera. Benvenuto anche a lei Lasariu. Allora, poi avremo modo di collegarci durante la nostra trasmissione con due giovani, attraverso Skype ci racconteranno la loro esperienza e sentiremo anche un legale esperto in questo settore perché insomma bisogna veramente stare attenti a come ci si muove soprattutto quando uno è già dipendente di un'azienda e magari posta materiale che potrebbe far arrabbiare qualcuno all'interno della propria azienda. Beatrice Podda, dunque è così importante, i social network sono così importanti per la ricerca del lavoro? Lo stanno diventando sempre di più? Sicuramente lo stanno diventando sempre di più in uno scenario come quello italiano dove ad oggi possiamo dire che un italiano su due acceda di internet quindi siamo ancora un passo indietro rispetto ad altri paesi. Se però andiamo a vedere il tipo di attività che vengono fatte su internet sicuramente i motori di ricerca e social network hanno un ruolo di primo piano. Lo step ulteriore è capire quanto questi canali possono davvero aiutarci nella ricerca di lavoro e qui si entra anche in un tema generazionale perché se da un lato ognuno di noi è in qualche modo presente online, basti pensare che sono 28 milioni gli italiani che utilizzano Facebook, sicuramente questi canali saranno fondamentali e lo sono già per tutta quella fascia di persone che oggi hanno fra i 21 e i 35 anni, i cosiddetti millennials, che però entro il 2025 costituiranno a livello mondiale il 75% della forza lavoro. Quindi abbiamo un po' di tempo per imparare ad utilizzarli sempre al meglio. Bisogna imparare ad utilizzarli bene, bisogna capire come sfruttarli. Ecco, qual è diciamo la sostanziale differenza al posto dei canali più classici, diciamo? Questi strumenti offrono un enorme potenziale. Siamo a volte portati più a vedere i rischi che le opportunità, ma se guardiamo in prospettiva sono sicuramente dei canali che le generazioni prima di noi, magari i nostri stessi genitori, non hanno avuto modo di sfruttare. Restano sicuramente in primo piano canali come il classico contatto diretto con le aziende, il riferimento con le agenzie per il lavoro o altre realtà deputate a fare da mediazione fra la domanda e l'offerta, canali come l'università, il passaparola, la rete di contatti. Però questi canali offrono ad ognuno di noi un palcoscenico che, se sfruttato al meglio, può aiutarci a essere valorizzati. Significa che anche una presenza curata online, qui entriamo un po' nei temi della cosiddetta reputazione digitale, può far vedere delle caratteristiche da valorizzare agli occhi di un referente aziendale o di un selezionatore. Ecco, quindi aumentano coloro che si rivolgono al web per trovare il posto di lavoro giusto e aumentano anche coloro che cercano personale attraverso i social. Stiamo parlando poi di fatto di quali social? Di Facebook, ma soprattutto di LinkedIn o magari anche di Twitter e più tardi vedremo anche con dei filmati proprio come funzionano questi tre social. Non sono gli unici, direi di no. Non sono gli unici, sicuramente in base alle tipologie di profili possono essere sfruttati anche altri canali, sicuramente sono molto agevolati anche quei profili più legati ad ambiti creativi. Ci sono anche degli esempi internazionali di come ad oggi molte aziende si elezionano attraverso dei contest che con l'utilizzo di canali come Instagram ad esempio permettono di valorizzare quali sono le proprie competenze e attitudini. Sono sempre di più le aziende che infatti vogliono mettere alla prova i potenziali candidati prima ancora di portarli all'interno della propria azienda. Ecco, Tudor Lasario, dunque una giovane, nuova, frizzante start-up come quella che guida lei insieme naturalmente presumo anche ad altri collaboratori. Che rapporto ha con i social? Noi abbiamo un rapporto molto importante con i social perché costruiamo piani di comunicazione e di sviluppo commerciale per i nostri clienti utilizzando molto e in quantità molto alta i social network e i contenuti multimediali che creiamo appunto per i nostri clienti. Quindi noi siamo una società di consulenza ma ci stiamo dedicando molto anche alla parte artistica e la parte creativa che troviamo sempre di più nei giovani, in quelli che scendono anche sotto i 20 anni a volte e dunque hanno un ruolo molto importante. Beh certo, indubbiamente. Quindi voi da una parte trovate potenziali collaboratori attraverso i social e dall'altra vi mettete in vetrina per mostrare anche quello che realizzate. Può essere così? Bravissimo, perché noi lo facciamo per gli altri però non dobbiamo dimenticarci di farlo anche per noi. Ecco, in particolare mi pare di ricordare che Easy Eat è una start-up che si rivolge diciamo così per esempio alle aziende, alle aziende finali, ai commercianti, ai vari tipi di aziende che ancora non hanno non solo preso in considerazioni social come metodo di ricerca di collaboratori oppure diciamo come vetrina ma proprio non li hanno presi in considerazione per nulla. Quindi da questo punto di vista mi pare di capire che siamo ancora un po' indietro in Italia. Purtroppo siamo ventiquattresimi su 28 posti in Italia, no? Su una classifica... In Unione Europea? In Unione Europea, sì. Cioè ventiquattresimi di che classifica? È una classifica organizzata e redata da l'Istat con un altro ente che adesso mi sfugge e dice che su più di sei indici che riguardano la connessione internet, la fruibilità delle servizie, le connessioni che hanno le aziende e anche le persone, i privati, noi siamo molto indietro ecco. Questo incide molto sia sul numero dei posti di lavoro e anche sui PIL di conseguenza perché limita le aziende sia dal lato commerciale internamente che anche andare oltre le frontiere, quindi andare a vendere in Europa ma anche oltre l'oceano e in tutti gli altri continenti ecco. Ecco, Pod, ma la ricerca attraverso internet, quindi attraverso i social, è più veloce? Cioè uno trova lavoro prima? Trova lavoro prima e possiamo dire che forse trova anche il lavoro più adatto e questo è il fattore più importante perché sicuramente i social media agevolano i tempi non solo da parte dei candidati ma anche da parte di chi fa selezione. Entrambe, queste due sfaccettature della ricerca e del lavoro possono accedere in tempi più rapidi a una maggiore di informazioni, quindi c'è la possibilità da parte dei candidati di proporsi direttamente alle aziende valorizzando le proprie competenze. Dal lato di chi fa selezione si può agire molto rapidamente in modo più efficace sui cosiddetti candidati passivi, cioè quelle persone che non hanno manifestato esplicitamente la volontà di cercare un nuovo posto di lavoro. Se queste persone tanti anni fa erano impossibili da raggiungere o andavano scovati magari tramite il passaparola, oggi pensiamo alla rapidità e alla moda di informazioni contenuti in uno strumento come LinkedIn utilizzato in Italia da più di 9 milioni di persone e molte di queste probabilmente sono persone non ancora consapevolmente alla ricerca di un nuovo lavoro. A proposito di LinkedIn, è talmente importante questo settore, è talmente sempre più importante che la notizia che in qualche modo è arrivata qualche mese fa ha veramente fatto molto discutere, cioè la volontà da parte di Microsoft di acquistare LinkedIn con una... Un poesito. Sì, infatti, la volontà nel senso che poi è stata comunque portata a termine, quindi Microsoft ha acquistato LinkedIn ed è stata un'operazione dal punto di vista finanziario veramente imponente, si parla della terza operazione finanziaria più costosa del mercato tech, ha speso oltre 26 miliardi di dollari e oltre a diciamo varie considerazioni che sono state fatte attorno a questo acquisto sicuramente si tratta di una notizia rilevante anche nell'ambito del recruiting online dove tra l'altro si sta assistendo a fenomeni di concentrazione sempre più evidenti e di conseguenza diciamo i siti principali stanno appunto aumentando la loro importanza è un po' questo forse il significato anche di questo acquisto. Assolutamente sì, è una visione strategica che impatterà non solo il mondo del lavoro ma tutti gli aspetti della realtà in cui viviamo perché sicuramente il passo che ha fatto Microsoft evidenzia la volontà di porre un'azienda che siamo soliti considerare da un punto di vista prettamente tecnologico in connessione con un altro aspetto della nostra vita quotidiana cioè quello del mondo del lavoro dove chiaramente l'obiettivo è quello di andare ad agevolare andare a coprire tutti quelli che sono gli strumenti collaborativi che ogni lavoratore utilizza ogni giorno nel suo contesto e andare quindi a effettuare una mappatura e a fornire una serie di soluzioni che possano andare a aiutare le persone in ogni aspetto della loro vita sia quando sono in ufficio sia quando sono fuori. Differimento anche a quello che dicevamo prima noi pensiamo invece che oggi il lavoro non va più cercato ma va proprio creato. Faccio un esempio molto pratico, molto terra terra io sto creando una campagna per un determinato tipo di azienda una campagna magari natalizia dove vendo un determinato prodotto e quindi devo mettere in campo determinati contenuti, operazioni eccetera e quindi magari in azienda in quel momento io non ho quella figura che può creare un disegno di un certo tipo un testo fatto in un altro modo e una ripresa un po' diversa da quelle solite e dunque vado a cercare su Instagram piuttosto che su Snapchat su questi social molto giovanili e molto utilizzati adesso dai ragazzi e vedo uno, due, tre profili che mi piacciono vado a contattare questi ragazzi e comincio a collaborarci. Semplice, speriamo sia altrettanto vantaggioso poi per chi viene in qualche modo contattato diciamo così. Accennavamo in apertura a una indagine che è stata fatta credo un po' in tutto il mondo ha coinvolto 26 paesi a livello mondiale un'indagine che è intitolata Work Trends Study e ci racconta un po' quello che è il futuro del lavoro appunto tra social e digital reputation in Italia l'indagine è stata realizzata su 2742 candidati e 143 recruiter quindi diciamo selezionatori di personale, è così? La possiamo magari anche vedere scorrere insieme intanto il profilo dei candidati l'età più rappresentata è quella che va dai 18 ai 35 anni e anche quella da 36 a 50 diciamo che insieme rappresentano l'86% dei candidati divisi equamente tra uomini e donne per quanto riguarda invece i selezionatori del personale soprattutto tra 36 e 50 anni soprattutto uomini per il 70% come vediamo in questo momento l'80% delle ricerche di lavoro viene effettuato online dai candidati soprattutto con bacheco online di annunci, siti aziendali e poi anche social media sono molto utilizzati anche dai selezionatori di personale le bacheco online, i siti aziendali e i social media cosa vogliamo sottolineare poi fino a questo momento? Vogliamo sottolineare il fatto che innanzitutto cosa intendiamo con social recruiting? Social recruiting rappresenta l'opportunità per chi cerca un lavoro o chi cerca un candidato di utilizzare i social network come valido alleato in questo tipo di attività bisogna saper usare gli strumenti, quello che emerge dall'indagine è che da un lato questi strumenti ci permettono di fare in modo digitale operazioni tradizionali quindi scrivere un curriculum, il profilo LinkedIn è la versione digitale del nostro curriculum tradizionale inviare delle candidature o delle autocandidature queste sono attività che se ci pensiamo potevamo fare anche prima dell'avvento di internet il professional network in particolare la vera innovazione data da questi strumenti sta nel fatto di potersi costruire una rete di contatti poter raccogliere informazioni su potenziali datori di lavoro prima ancora di entrare in azienda a stringere la mano di un selezionatore allo stesso modo chi sta dall'altra parte della scrivania può raccogliere informazioni su un candidato e soprattutto questi strumenti permettono di mettere in evidenza cosa sappiamo fare ma anche e soprattutto chi siamo davvero quindi non conta più solo il saper fare ma anche il saper essere qualche altro dato che leggiamo insieme dalla grafica l'uso del social network in ottica professionale da parte dei candidati è orientato a mantenere contatti con recruiter per il 28% e potenziali datori di lavoro per il 52% oltre che colleghi 59% ex colleghi 69% quindi insomma comunque i social utilizzati a 360 gradi sia per cercare per mantenere i contatti anche con i colleghi o ex colleghi tutti prevedono di incrementare ulteriormente l'utilizzo di questi canali soprattutto linkedin vedo qui e facebook diciamo almeno per quanto riguarda questo tipo di ricerca ovviamente il social più usato per finalità professionali rispetto a facebook e altre piattaforme è proprio linkedin e per la ricerca di pagine di potenziali datori di lavoro tuttavia i candidati sfruttano parecchio anche facebook è giusto comunque orientarsi un po' su tutti i mezzi disponibili ogni canale deve avere la propria strategia quindi bisogna trovarsi che mondo difficile l'ideale sarebbe capire il contesto in cui ci si trova ma d'altra parte è così che viene anche nella vita fuori dalla connessione nel senso che ovviamente non andremo vestiti a teatro allo stesso modo in cui andremo a vedere una partita di calcio quindi come sempre basta capire l'ambiente in cui ci si trova e utilizzare per l'interazione quelle regole di buon senso che sono alla base di qualsiasi interazione anche fuori dalla vita online mi preme però sottolineare e questo è un punto di attenzione fortissimo che l'identità di una persona online di una persona è unica quindi non dobbiamo distinguere tra online e offline si tratta di trasmettere la nostra identità in modo autentico il più completo possibile senza pensare che il web e i social network vivano di vita proprio in un sistema totalmente separato dalla vita di tutti i giorni c'è poi una domanda interessante sei mai stato contattato da un recruiter tramite i social network si 15% no 84% e hai ottenuto il lavoro si 8,4% ecco questo va un po' interpretato questo dato è un dato interessante perché sebbene la percentuale dell'8,4% possa essere vista un pochino bassa rispetto al confronto anno su anno sono 5 anni che conduciamo questa ricerca e in crescita nell'anno precedente questa percentuale era del 7% sicuramente rispetto al confronto con altri paesi come gli Stati Uniti cresciamo di poco mentre lì temi come il social recruiting con la reputazione digitale sono veramente molto interiorizzati da noi iniziamo a parlarne da pochi anni il tema interessante è utilizzo questi network per cercare lavoro sono davvero efficaci? lo trovo? la risposta è sì ovviamente non sono la soluzione di tutte le difficoltà attuali del mondo del lavoro ne tantomeno sono l'unico strumento di selezione non sostituiscono il colloquio tradizionale, il CV, quelli che noi chiamiamo assessment cioè strumenti di valutazione anche in gruppi di candidati ma lo affiancano quindi forniscono delle informazioni complementari al tradizionale processo che prima non erano accessibili vediamo un altro dato con quali finalità usi social network in ottica professionale i candidati rispondono cercare lavoro 51% distribuire curricula 50% idem per creare e coltivare una rete professionale cercare le pagine di potenziali datori di lavoro 47% rispondere a candidature mentre per quanto riguarda i recruiter cercare candidati passivi cioè? persone che non sono consapevolmente alla ricerca di un nuovo lavoro non lo sanno ma in realtà ma in realtà se arriva l'offerta giusta magari quasi quasi beh certo quindi 78% appunto cercare candidati passivi 75% verificare i curricula inserire annunci di lavoro 68% verificare la rete del candidato 67% e quindi verificare la rete del candidato quella famosa digital reputation assolutamente sì è chiaro per fare un esempio che il network di contatti rappresenta anche un valore potenziale ed economico di una candidatura facciamo un esempio se dovessimo cercare una ha detto ufficio stampa che questo a parità di curriculum ovviamente è un ruolo per il quale avere un buon network di contatti nel settore può essere fondamentale per poi svolgere il proprio lavoro quindi a parità di CV sicuramente verrà privilegiata una persona che abbia un buon network di contatti non significa un network misurato sulla quantità ma sulla qualità e quindi sulla potenziale efficacia di quei contatti ultima domanda quali sono i profili e i ruoli che cerchi esclusivamente online allora soprattutto manager, senior e middle manager e poi non manager per i profili ci sono ricerche e sviluppo, marketing, legale, comunicazione, acquisti, vendite insomma c'è un po' di tutto ma di fatto quali sono le figure più cercate dai recruiter online? sicuramente le figure legate all'IT perché vivono per natura in questo tipo di ambienti digitali tutte le figure legate all'area marketing, comunicazione, media e anche tutte quelle figure che ad oggi non sono prettamente legate all'ambito produzione quindi quello che vediamo è che un canale come LinkedIn è molto associato a profili medio manageriali o di più alto livello ma sicuramente il bacino si sta andando ad allargare in modo più ampio tant'è che si sta aumentando il numero anche di studenti che sono presenti su LinkedIn quindi che vedono in questo canale in prospettiva uno strumento per cercare lavoro a proposito di studenti lei ha a che fare con il Politecnico vabbè insomma magari anche studenti forse più giovani non lo so però si danno da fare già nei primi anni di università presumo sì sì parecchio noi facciamo molta ricerca e sviluppo perché sviluppiamo insieme al Politecnico proprio determinati prodotti che andranno poi ad aiutare le aziende a migliorare il loro modello di business e quindi i nostri ricercatori hanno 21, 20, 22, 25 a dir tanto di anni perché sono anche quelli più freschi hanno idee non ancora, passiamo il termine, contaminate da nessun tipo di azienda ma sono molto puri sia negli ideali che nei valori ancora a questo punto ci dobbiamo fermare per qualche istante rimanete con noi perché tra un po' avremo anche qualche testimonianza diretta di questi giovani e tra poco sulla rete, su internet, sul web e che può in qualche modo insomma crearci magari qualche problema quindi bisogna gestirla bene un po' una scocciatura però è una cosa che bisogna assolutamente fare e di questo parleremo in particolare più tardi più avanti nel corso della nostra trasmissione allora l'utilizzo dei social i profili sono sempre utili per ottenere informazioni sul candidato e anche per capire quanto sta al passo con i tempi ed è in grado di costruire un network o tra l'altro qui a Cremona abbiamo un esempio a proposito di successo e di lavoro colto e incrementato proprio dai social network il famoso esempio di Chiara Ferragni l'abbiamo parlato già anche in altre trasmissioni durante il nostro telegiornale Giovane Cremonese adesso ha 29 anni Chiara Ferragni ma è conosciutissima eccola la vedete qui sulle copertine di Vogue testimonial di Pantene e di tutto è partito proprio grazie al suo profilo Instagram che vediamo in questo momento mi pare di aver letto 15.000 post quindi di fatto 15.000 foto o video pensate un po' quanto lavoro anche che c'è dietro perché per postare 15.000 cose insomma voglio dire bisogna lavorarci parecchio tanto ha lavorato che attraverso il suo blog di moda The Blonde Salad che ha recentemente compiuto 7 anni quindi già da 7 anni porta avanti questa attività insomma è diventata veramente una raffinata influencer con oltre 6 milioni di follower ed è guida una piattaforma che ha inaugurato anche un sito di e-commerce che è arrivato a fatturare 10 milioni di euro e è finita nella classifica di Forbes tra i 30 under 30 più influenti al mondo quindi insomma capite che è partita da Cremona facendo foto facendosi dei selfie e postandoli su Instagram attenzione è una fashion blogger quindi lei ha un obiettivo ben preciso e parla di determinati argomenti parla di moda, parla di vestiti appunto di linee e il suo e-commerce che hai citato è un e-commerce dove lei vende le proprie creazioni le proprie linee di vestiti che ha cominciato a creare da poco tempo comunque è stata una crescita anche per lei lei e anche qualche altro caso insomma rappresentano comunque casi eccezionali ecco noi l'abbiamo citato giusto perché è di Cremone perché comunque evidentemente ha raggiunto livelli incredibili adesso invece via Skype ci colleghiamo con altri due giovani lavoratori della web lavoratori digitali che collaborano proprio con la start-up Easy It e sono Riccardo Cavaliere giovane scrittore che grazie alla collaborazione è diventato e sta diventando un digital storyteller e si occupa di web editing e poi abbiamo anche una grafica e una fotografa una peer log un saluto a voi grazie per essere con noi oggi in trasmissione allora noi stiamo tentando appunto di capire quanto sono importanti i social nella gestione di quello che è il proprio come dire profilo anche lavorativo ecco voi state sia da una parte che dall'altra probabilmente per quanto riguarda Riccardo ecco qual è la la tua storia da questo punto di vista scusi puoi ripetere la domanda perché mi sono un attimo importanti i social e quanto lo sono i social per diciamo creare un ambiente particolarmente come dire anche interessante e stimolante dal punto di vista lavorativo il giorno d'oggi sono fondamentali perché se non sei diciamo all'interno di un social o comunque di una piattaforma che ti dia visibilità sei praticamente inesistente a meno che tu non conosca altri canali per arrivare dove vuoi arrivare è molto importante al giorno d'oggi il panorama di internet e del web che è stato arricchito dai social i quali permettono di crearsi un profilo che ti faccia conoscere in maniera apparentemente semplice da un pubblico molto vasto dopo anche all'abilità e alle conoscenze della persona che si propone attraverso social di cercare di creare il giusto circuito per arrivare dove insomma dove è sempre fissato noi parlavamo poco fa di questo caso incredibile di Chiara Ferragni appunto questa cremonese che è arrivata a questi livelli che commento hai fatto o fai di fronte a questi fenomeni? Ma dunque io penso innanzitutto che per qualsiasi cosa dobbiamo applicare l'istinto di sopravvivenza cioè il mondo di oggi ci ci mette davanti a a questo tipo di meccanismo cioè il funzionamento anzi la valorizzazione dell'immagine attraverso social Chiara Ferragni che è stato l'esempio cremonese così come tanti altri prima di lei in vari posti come Justin Bieber all'interno di YouTube che è stato il primo fenomeno mediatico di YouTube sono tutte persone che si sono trovate nel momento giusto al posto giusto e hanno saputo sviluppare l'idea il vincente per sfruttare al meglio un canale nuovo e questo gli ha dato poi una grande visibilità dopo se andando ad approfondire si potrebbero dire tantissime cose esprimere pareri personali sulla qualità che sia più o meno evidente e le abilità quali siano le reali abilità di queste persone il fatto sta che al giorno d'oggi bisogna riconoscere che una delle qualità fondamentali per emergere è riuscire a sfruttare al meglio i canali social e loro ci sono riusciti ecco ma tu nasci così come giovane scrittore come letterato adesso ti occupi invece di siti web questo passaggio è dovuto anche ai social questo passaggio passaggio perché nel corso degli anni comunque io ho sviluppato le mie abilità nel settore della scrittura mi sono sempre interessato e ho sempre coltivato quella che prima era una passione poi ho cercato di farla diventare qualcosa di più serio il problema a cui sono andato incontro è che cercando di emergere con solo i propri mezzi le proprie abilità non ero abbastanza visibile perché perché cercando di produrre tutto in maniera autonoma e di uscire appunto senza dover anche accettare anche piccoli che fossero compromessi facevo fatica a mettermi in mostra e a trovare comunque un canale che mi permettesse di esprimermi attraverso la scrittura ho fatto lo storytelling un buon mezzo e un buon anche come dire punto di partenza per permettermi poi di avere anche una conoscenza maggiore e di poter sfruttare la scrittura e di potermi anche mettere in gioco sotto altri punti di vista e comunque avere anche più visibilità poi nel campo della della scrittura grazie ecco lasario questa collaborazione quindi è nata recentemente e prosegue con diciamo questo tipo di collaboratori così motivati eh beh sì senza di loro noi non potremmo fare quello che stiamo facendo noi incentriamo come dicevo poco fa tutto sulla creatività di questi giovani frizzanti come ben vedete per produrre visibilità e comunicazione di alto valore sia per per noi che per le aziende ecco ma eh sentiamo adesso Anna Pirlog grafica e fotografa eh Pirlog di cosa Anna di cosa ti occupi in questo in easy it in easy it allora principalmente della realizzazione di materiale grafico come cataloghi o altre volantini e fissioni insomma dipende anche dei social ad esempio scelgo le immagini posto per loro e diciamo utilizzando i canali giusti faccio conoscere le aziende tramite questi social perché giustamente come diceva Riccardo se non sei online non esisti ecco tra l'altro a proposito di social vediamo in questo momento il tuo eh profilo Instagram eh Lazario è stato importante per mettervi in contatto con con Oana sì lo è stato molto ma soprattutto è stato utile per capire quali fossero le sue capacità le sue passioni e come poterla coinvolgere nelle nostre azioni e i nostri piani e eh si si nota bene che fa delle bellissime fotografie e eh convertire questa sua passione perché lei lo faceva per se stessa e non per nessun altro e ha anche un discreto numero di follower quindi convertire queste sue abilità in uno strumento per aiutare anche le imprese è stato molto utile certo Oana allora complimenti per queste foto ma ehm abbiamo riconosciuto le cinque terre o sbaglio? sì 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 ah meno male non ce la mandiamo in gita per forza se non vai in gita non lavora bene ah bisogna mandarla bisogna mandarla in gita quindi insomma per te è stato importante eh essere sui social postare eh materiale di di qualità per metterti mostra assolutamente sì perché è un modo per riuscire quello che faccio il mio lavoro e perché assolutamente le persone vogliono vedere cosa fai direttamente subito mettendoti sui social dai una visibilità abbastanza larga a un numero elevato di persone quindi mostri cosa sai fare ecco ma alla fine eh voglio dire anche tra i vostri colleghi i vostri coetani non so eh quanti ancora non prendono seriamente in considerazione questo aspetto per ora non ci sono ancora tanti tante persone che non utilizzano questo spazio in modo lavorativo e non più per mostrare se stessi tanti dovrebbero capire la potenzialità di questi strumenti e utilizzarli per farsi conoscere nel mondo lavorativo eh stessa domanda anche a Riccardo io aggiungerei che altro che non è neanche così semplice e così immediato perché eh il mondo dei social cioè i social sono comparsi una decina d'anni fa adesso se non sbaglio Facebook era nato nel 2004 eh all'improvviso ma eh non siamo mai stati educati a un utilizzo corretto dei social quindi tante volte se ne fa un cattivo utilizzo e ehm a livello professionale non è facile trovare il giusto equilibrio cioè creare il giusto profilo che ti permetta poi di emergere senza sembrare ehm senza apparire diciamo più non so non come come avresti pensato tu perché poi il problema qual è che noi eh conosciamo quello che postiamo ma non sappiamo qual è la reale risposta perché nessuno ci ha mai spiegato appunto come eh funzionano determinati meccanismi certo qual è l'errore più diffuso diciamo o il rischio più diffuso ma probabilmente il rischio più diffuso può essere quello di eh mischiare non so vita privata vita professionale quindi di utilizzare un canale in maniera bivalente quindi puoi andare a rischiare di compromettere la propria immagine lavorativa cosa che spesso accade cosa che accade anche perché si comincia in genere con un utilizzo del social eh a livello eh puramente personale e poi dopo lo si converte a proprio lavorativo quindi Beatrice podda nuisce così? direi proprio di sì perché eh l'opportunità è grossa bisogna avere il pensiero laterale di capire quando si apre poi si gestisce la propria presenza online che può avere impatti anche sulla propria reputazione professionale eh sia Riccardo che Oana parlavano di visibilità è proprio quello che eh tecnicamente viene un po' chiamato personal branding cioè la capacità non di vendere se stessi ma di evidenziare uno o più motivi per cui un potenziale datore di lavoro dovrebbe sceglierci eh Chiara Ferragni ha lavorato solo proprio su questo ovviamente lei gioca un ruolo da player indipendente però è diventata testimonial di diverse aziende e la partita del lavoro si giocherà sempre di più su questi pilastri che ad oggi a mio parere sono la reputazione in primis il network e i risultati quindi questi tre punti ridefiniranno completamente il mercato del lavoro soprattutto per un target come quello dei dei giovani dei millennials di cui dicevamo all'inizio che saranno la fonte principale della forza lavoro nei prossimi anni benissimo direi possiamo salutare Riccardo Cavaliere e Oana Pirlog collaboratori della startup Easy Eat vi ringraziamo per la disponibilità grazie allora buon lavoro a questo punto grazie a voi grazie ciao salutiamo allora Riccardo Cavaliere e Oana Pirlog c'era anche un altro caso di cui abbiamo qualche immagine sempre del profilo Instagram quello di Chiara Colombo giovane laureante in psicologia creativa e disegnatrice anche questa è una vostra collaboratrice si Lasario lei è una ragazza che l'abbiamo trovata con Instagram una ragazza di Novara infatti non sapevamo nemmeno di dove fosse di Novara si e cosa vi è piaciuto qui per esempio avete visto queste foto? se guardate un po' le foto vi rendete conto lei ha un modo per esprimere se stessa esprimere dei concetti molto fine molto artistico e molto poetico e secondo noi è proprio quello che alle aziende mancano allora il Made in Italy è il Made in Italy è un brand che le nostre aziende hanno tutte che siano prodotti servizi o qualsiasi tipologia di appunto prodotto che facciamo noi dobbiamo raccontare l'italialità dei nostri prodotti per venderli per venderli al meglio no? quindi per quello che noi abbiamo il PIL in discesa e mentre c'è questo marchio di vestiti di moda si chiama J.Crew è un marchio americano che va fortissimo sulla rete in questo periodo loro raccontano l'italialità dei loro tessuti e fanno abiti in America in Indonesia e Pakistan probabilmente li vendono in America vestono Barack Michelle Obama suo marito non veste J.Crew però per dire loro sfruttano l'italialità e il raccontare il Made in Italy mentre noi non lo facciamo ecco noi abbiamo visto in chiara questo lei è capace di raccontare l'essenza i valori e la bellezza di quello che vede e di quello che tocca con mano con la lente fotografica con la matita e via dicendo tra poco allora parleremo di della nostra reputazione sul web quindi rimanete con noi di nuovo in studio la piazza del lavoro con i nostri ospiti adesso in particolare parliamo di digital reputation ovvero quella che è la nostra reputazione digitale ognuno si costruisce quella che può normalmente nella vita di tutti i giorni ma poi non pensa e magari scorda una cosa molto importante che appunto anche sul web nel momento in cui siamo presenti sui social ebbè abbiamo una nostra reputazione come si costruisce questa reputazione pod? questa reputazione diciamo che si può costruire ma consiglio la strategia fino a un certo punto nel senso che è bene non inventarsi online un'identità diversa da quella che abbiamo offline infatti era questo che mi è curiosivo magari uno dice delle bugie mette anche una foto non dico una foto di una persona più bella ma insomma comunque si può anche pensare no? di mettere qualcosa di falso sì è vero è possibile diciamo che il web se da un lato aiuta dall'altro offre anche l'opportunità di smascherare facilmente informazioni non corrette quindi bisogna essere sinceri bisogna essere sinceri perché bisogna esserlo anche diciamo fuori dal web quello che immagino è che a noi ad esempio capita spesso soprattutto magari su profili neolaureati è quello di forzare alcune informazioni per creare una corrispondenza rispetto a specifiche offerte di lavoro che poi non esiste nella realtà che viene facilmente smascherata perché se un nostro collega che fa selezione riceve un curriculum via mail e poi effettua una verifica rispetto al profilo LinkedIn e le esperienze lavorative o il job title non coincidono è evidente che si è creata una forzatura che forse potrebbe anche portarci a un colloquio di lavoro ma colloquio che potrebbe risultare un po' imbarazzante da sostenere quindi sarebbe una perdita di tempo sia per chi fa selezione sia per chi cerca lavoro l'asario è capitato? sì sì è capitato ma io volevo sottolineare anche il fatto che il web e forse oggi il canale e il mondo virtuale per quello che è più meritocratico che c'è nel senso che tutte le bugie prima o poi vengono a gala sul web e soprattutto attraverso l'interazione con le altre persone le recensioni delle altre persone piuttosto che il coinvolgimento che i nostri contenuti possono avere questo diventa tutto un meccanismo molto meritocratico lo ripeto perché purtroppo lo sappiamo tutti che ci sono ambienti in cui la meritocrazia non è eh sì questo è un problema che pare soprattutto in Italia la rete favoreggia molto questo sia lato personal branding sia lato azienda sia anche un'istituzione che può essere un'università e altri attori di questo genere ecco ma il recruiter cosa va a osservare sul nostro profilo ho capito che il curriculum deve corrispondere coincidere ma poi va a vedere anche su facebook sette anni fa abbiamo postato un'immagine come dire compromettente ed è giusto che questa poi incida sull'eventuale scelta non sono questi gli aspetti a cui un recruiter è principalmente interessato è chiaro che se facendo una ricerca su google immagini dovessero saltare fuori eh contenuti compromettenti è successo sicuramente succede eh bisogna innanzitutto stabilire cos'è un contenuto sensibile e cosa non lo è quindi premesso che tutti abbiamo una vita privata una privacy relativa e un'identità anche non professionale solitamente sono considerati contenuti sensibili quelli che possono essere esplicitamente eh magari discriminatori diffamatori quindi che urtano in qualche modo la sensibilità di altre persone e questo anche qui sono regole di buon senso che valgono anche nella vita di tutti i giorni insulteremo mai qualcuno che cammina per strada? se sì ce ne assumiamo le relative responsabilità eh l'altra considerazione è guardare eh quanta attitudine quindi cercare di capire i tratti della personalità che può avere quel potenziale candidato cerco di spiegarmi meglio eh oggi soprattutto per i profili giovani molte persone escono dall'università con dei profili molto simili perché hanno fatto uno stesso corso di studi hanno avuto uno stesso eh uno stesso tipo di laurea quindi non c'è un marcatore nel momento in cui cercano di inserirsi nel mondo del lavoro che faccia un candidato migliore di un altro eh si cerca di misurare anche quella che è eh la passione che una persona metterebbe in un futuro posto di lavoro ossia se sono così appassionato di ingegneria ambientale e nel tempo libero mi sono creato e curo un blog che parla di questi contenuti chi seleziona a parità di curriculum potrà pensare che eh il candidato che ha il blog di ingegneria ambientale tendenzialmente metterà nel suo lavoro ogni giorno non solo tanta testa tanta competenza ma anche tanta passione e quindi eh come dicevamo anche prima la competizione è molto alta ma abbiamo la possibilità di evidenziare al meglio le nostre reali intenzioni comunque insomma evidenziare le nostre passioni le nostre eh passioni e anche come dire le nostre predisposizioni facendo attenzione appunto a non mettere insieme eh privato e eh ambiente lavorativo perché questo mi pare di capire comunque alla fine eh insomma eh incide anche se eh lei dice non viene presentato in considerazione abbiamo una vita privata però può incidere cioè vuol dire se su dieci fotografie che postiamo nove ci ritraggono alticci penso che credo che il discrimine non sia tra vita professionale vita privata o fra tipologie di contenuti ma sia quanto siamo consapevoli di poter gestire la nostra stessa privacy forse quello che manca è questo livello di consapevolezza perché questi strumenti permettono di impostare ogni canale a dei settaggi differenti i livelli di privacy quindi sta a ognuno di noi decidere liberamente cosa far vedere e cosa no in alcuni casi lasciare la porta di casa un pochino aperta può essere positivo perché se io parlo sulla mio profilo facebook con i miei amici di tematiche comunque attinenti al mondo del lavoro è positivo oppure posso decidere di lasciare la porta chiusa con un doppio giro di chiave quindi l'importante è essere consapevoli dei livelli di privacy e di come si servono anche perché così si dimostra poi di sapere usare questi social e quindi anche questo come dire aiuta no credo assolutamente tra l'altro sempre nella indagine Work Trends Study c'è stata anche una domanda che riguarda in particolare la digital reputation ebbene emerge che il 35% dei recruiter quindi dei selezionatori dei personale ha dichiarato di aver escluso potenziali candidati dalla selezione a causa di informazioni contenute sui social il 76% dei candidati ha verificato online almeno una volta la reputazione di un'azienda perché naturalmente è anche la cosa reciproca assolutamente dobbiamo ricordarci sempre che in questa partita ci sono due giocatori e come evidenza le indagini utilizzano gli stessi strumenti quindi non solo i recruiter a cercare informazioni online sui candidati ma sono anche i candidati a cercarli sui potenziali datori di lavoro e qui entra in gioco anche l'attrattività di singoli brand e di singoli contesti aziendali se abbiamo letto sui giornali che un'azienda non è eticamente corretta per come tratta i suoi lavoratori magari a dinamiche poco chiare nella catena di produzione saremmo portati a pensare che forse non ci piacerà così tanto lavorare presso quell'azienda quindi tutti questi canali social ma anche forum blog community ovviamente riportano opinioni personali però anche i candidati giustamente possono essere più o meno affascinati dall'idea di lavorare in determinati contesti e comunque in un anno dal 2014 al 2015 è aumentato del 10% la percentuale appunto di recruiter che hanno deciso di adottare questo criterio soprattutto per foto sconvenienti informazioni non coerenti con il curriculum tratti emergenti della personalità attenzione dunque adesso velocemente torniamo un attimo alla ricerca del lavoro attraverso i social e vediamo alcuni video preparati dal gruppo ad ecco che ci suggeriscono proprio come utilizzare questi social e cominciamo con twitter twitter è uno spazio di comunicazione pubblico una piazza virtuale in cui sembra davvero difficile far sentire la propria voce specialmente da chi potrebbe essere il tuo futuro datore di lavoro prima di tutto costruisci un account con cui farti notare da recruiter e da potenziali datori di lavoro puoi sfruttare la bio per inserire anche informazioni specifiche sul lavoro desiderato e formazione non dimenticare di linkare il tuo sito o il tuo blog il portfolio online o il tuo profilo linkedin sii sintetico hai solo 140 caratteri a disposizione scegli con attenzione il tuo nome utente può anche essere uno pseudonimo se dà indicazioni sulla tua attività e sulle tue competenze usa una fotografia in cui sei in primo piano individua le persone che potrebbero essere rilevanti per il tuo futuro professionale e diventa un loro follower in questo modo creerai la rete di contatti che ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi professionali sempre più spesso le segnalazioni sulle posizioni aperte e le offerte di lavoro vengono twittate persino prima di essere pubblicate sul sito ufficiale per individuare tweet che parlino di lavoro e annunci interessanti inserisci nel motore di ricerca hashtag mirati e parole chiave che descrivano la posizione cercata prepara il tuo twissium ovvero un tweet che contiene il tuo curriculum in 140 caratteri indicando il tuo percorso formativo il lavoro che cerchi e dove senza dimenticare gli hashtag e il link al tuo curriculum o profilo linkedin interagisci con gli altri tramite tweet e retweet domande appropriate commenti interessanti menzioni mirate i contenuti che crei e i link che twitti non solo devono catturare l'attenzione ma anche essere attinenti alla tua professione utilizza i servizi gratuiti per accorciare i link risparmiando caratteri i messaggi privati invece puoi inviarli solo a chi già ti segue monitora le notifiche per sapere chi ti segue e se qualcuno ti ha menzionato crea delle liste per raccogliere i profili che parlano di lavoro attiva le notifiche per smartphone che ti avvisano quando gli account che ti interessano inviano un tweet adesso che sai come utilizzare le risorse di twitter puoi interagire con persone che potrebbero essere interessate ad assumerti puoi trovare le offerte di lavoro costruire reti di contatti ritagliarti uno spazio sempre maggiore e costruire le basi per future collaborazioni e questi i consigli per l'utilizzo di twitter che viene insomma direi che mi pare sia uno strumento particolarmente adatto assolutamente sì un po' conciso quindi bisogna essere molto abili nel riuscire a dare poche informazioni però anche in questo caso mi viene in mente un esempio molto recente di una ragazza se non ricordo male americana che affascinata l'idea di lavorare in Airbnb la famosa piattaforma di sharing di camera e di ospitalità ha fatto un'analisi di mercato su Airbnb in particolare nei paesi dell'Arabia da cui lei proviene l'ha condivisa su twitter con l'amministratore delegato di Airbnb il quale le ha risposto invitandola ad un colloquio di lavoro hai capito torniamo sui temi sempre del personal branding della capacità di sapersi valorizzare al meglio diversamente quel CV o quella proposta mandata via mail magari non avrebbe avuto alcun tipo di attenzione e dalla sintesi di twitter invece ci allarghiamo decisamente con facebook cercare lavoro usando i social e professional network è un po' come invitare a casa tua la persona che potrebbe volerti assumere per essere sicuro che casa tua ti rappresenti nel modo migliore scegli con cura l'arredamento dai una bella pulita e metti in ordine prima di tutto il tuo profilo facebook deve essere facilmente rintracciabile identificabile aggiornata ricordati di indicare tutte le esperienze accademiche e professionali più significative scegli una foto appropriata e utilizzala su tutta la presenza web per identificarti al meglio scegli anche un'immagine di copertina adatta controlla le impostazioni della privacy selezionando le liste di colleghi, conoscenti, amici per le quali vuoi rendere disponibili i vecchi post gli aggiornamenti di stato i commenti degli amici e i tuoi mi piace ai loro post rimuovi oppure rifiuta di dare il tuo consenso per le foto imbarazzanti in cui sei stato taggato controlla sempre le applicazioni e i gruppi a cui sei iscritto pubblica contenuti interessanti non puntare sulla quantità ma sulla qualità quando parli di politica, religione e sport evita di urtare la sensibilità di chi legge partecipa alle discussioni con toni moderati e costruttivi non parlare male delle tue precedenti esperienze lavorative postare contenuti interessanti inviare messaggi privati e partecipare ai gruppi ti aiuta ad aggiungere contatti lavorativi che potrebbero esserti utili cerca informazioni sulle aziende che ti interessano connettiti alla pagina dell'azienda per conoscere eventuali posizioni aperte invia il curriculum in allegato al messaggio privato partecipa ai contest che le aziende lanciano sulla loro pagina alcune hanno anche un tab recruitment cliccaci sopra per inoltrare la tua candidatura adesso il tuo profilo facebook presenta proprio l'immagine professionale che desideri comunicare e questo questo era facebook velocemente passiamo anche a linkedin nelle occasioni in cui incontri nuove persone interagisci con loro stabilendo relazioni sociali e professionali proprio come succede su linkedin che offrendo occasioni di visibilità e incontro permette di costruire una rete di contatti utili e di individuare offerte di lavoro interessanti le opportunità che linkedin offre sono estremamente reali moltissime aziende oggi lo usano per la ricerca di personale un profilo dettagliato completo delle tue esperienze accademiche e professionali è allora indispensabile per ogni esperienza puoi aggiungere uno o più progetti che hai seguito corredandoli di immagini e link non dimenticare per presentarti un riepilogo che parli di te delle tue passioni e motivazioni se inserisci delle parole chiave identifichi con più precisione le tue competenze e gli ambiti di riferimento aggiungi una foto professionale in primo piano e decidi se sarà visibile a tutti o solo a chi è già nel tuo network per cercare le offerte di lavoro digita la posizione desiderata nel motore di ricerca linkedin evidenzia in base al tuo profilo gli annunci che potrebbero fare per te non scordarti di salvare le ricerche più utili le offerte migliori le candidature che hai inviato puoi anche filtrare le tue ricerche per categorie offerte di lavoro persone gruppi università aziende sfrutta linkedin per fare rete collegati a utenti che già conosci e a utenti che non conosci ancora ma che potrebbero aiutarti a trovare lavoro quando li inviti a collegarsi con te invia sempre anche qualche riga di presentazione personalizzata per motivare la tua richiesta segui i profili di aziende che ti interessano per sapere tutto sui loro aggiornamenti a partire dai gruppi di discussione frequenta in modo continuativo quelli che riguardano la tua professione avvia conversazioni e interviene in quelle già attive usando toni moderati interagendo positivamente e attivamente con il tuo network il tuo punto di vista aggiungerà valore alla discussione pubblica articoli e contenuti in linea con il tuo lavoro attuale o con quello che cerchi così nel caso di posizioni aperte riuscirai a farti notare da recruiter e potenziali datori di lavoro che potrebbero aggiungerti al loro network e inviarti messaggi privati ecco adesso hai imparato a usare linkedin nel modo più efficace buona fortuna bisogna poi trovare il tempo anche per lavorare effettivamente perché uno impiega un sacco di tempo per aggiornare i suoi profili questo può essere un problema beh ma cercare un lavoro è un lavoro questo non è mai stato nascosto e questi canali creano condivisione e vicinanza quindi ha vantaggio di tutto e il gruppo ad eco comunque punta molto sulla ricerca sui social assolutamente sì perché agevola molto il contatto con le persone e fra le persone quindi anche noi siamo più facilmente raggiungibili grazie a Beatrice Podda digital marketing e communication manager del gruppo ad eco e grazie anche a Tudor Vlad Lazario cofondatore e project manager di Easy Eat Startup in collaborazione con il Politecnico di Milano sede di Cremona vi ricordo che gli approfondimenti li potrete trovare sul settimanale Mondopadano e sui siti crema oggi, cremona oggi e olio po news grazie per essere stati con noi alla prossima grazie a tutti 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 grazie a tutti